Questo aggeggio qui lo dovrebbero avere tutti i videomaker e i content creator, io lo utilizzo da sempre, da quando ho iniziato a creare video nel 2015. Ti permette di archiviare file, foto e qualunque altra cosa con maggiore sicurezza rispetto a un normale hard disk o un ssd, ma soprattutto ti dà la possibilità di accedere ai tuoi dati da qualunque parte del mondo, condividerli tramite link come fosse un dropbox e tantissime altre funzionalità che vedremo in questo video. Benvenuti in questo video, oggi si parla di NAS, che vuol dire letteralmente Network Attached Storage, che tradotto in italiano vuol dire archiviazione collegata alla rete. Ce ne sono di tantissime tipologie a seconda dell'utilizzo che una persona ne va a fare e io ne ho provati due. Questo qui, che è il mio primissimo NAS, sempre di QNAP ed è del 2010 per farvi capire. Mentre questo qui, che è uscito nel 2022 e pensate un po' che ha anche l'intelligenza artificiale al suo interno e anche questa cosa la andremo a approfondire perché è molto interessante. Oggi vediamo molti degli aspetti di un NAS, da cosa è composto, quale scegliere, come impostarlo, quali sono le funzioni che io ritengo molto utili e come applicarle al vostro NAS. Ma soprattutto il mio feedback su questo qui, che è un bel gioiellino. Quest'altro è il QNAP TS262. Ha due slot in questo caso, ma c'è anche la versione da quattro slot, nel caso abbiate bisogno di tanta memoria. E questo dà la possibilità anche di aggiungere due SSD NVMe per creare un'accelerazione cache, che ti permette di accendere più velocemente i file, soprattutto quando utilizzi gli harddisk in realtà. Ma io comunque per testare questo qui ho utilizzato due SSD e i risultati li vedremo dopo perché mi ha veramente stupito. Questo NAS qui mi è stato inviato dai ragazzi di QNAP, che dopo aver visto quale NAS avevo, sapendo che mi interessava questa tipologia di contenuto da portare, mi hanno mandato questo. Ma voglio dirvi che questo video non è in nessun modo sponsorizzato e questo qui glielo rimando indietro, quindi quello che sentirete in questo video è pure esperienza personale, senza nessun filtro. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato, ma i ragazzi di QNAP, oltre al NAS, mi hanno mandato altri gadget molto interessanti. Io sono un grandissimo fan dei gadget aziende, se state guardando. Tra cui questa maglietta che è veramente figa a livello di colori, come notate a me piace il viola e qua c'è del viola. E anche a livello qualitativo, ma vabbè, questo non c'entra molto col NAS. E poi mi hanno mandato anche un quadernino molto bello. Andiamo a vedere un po' come è composto questo NAS. Intanto abbiamo questa paracchia davanti che si può in realtà anche bloccare con una levetta qua laterale, che ci rivela i cassetti nei quali possiamo mettere gli SSD o gli harddisk. Frutterò la sua scatola dove all'interno ci sono tutti i vari cavi necessari per appoggiarlo. Tiriamo fuori anche l'altro cassettino, eccolo qua, dove qua è già inserito un SSD tra l'altro. Anche gli SSD mi sono stati mandati da QNAP, sapendo che avremmo parlato di produzione video, di editing video direttamente sul NAS, l'SSD è sicuramente la migliore soluzione. Inserire i dischi in realtà è molto semplice, si apre questa cosa laterale qui, uno e due, e semplicemente infilando il disco in questo modo, senza neanche utilizzare le viti, si reinseriscono queste paratie laterali e il disco è montato all'interno del NAS. Due click e siamo a posto. Ovviamente questo disco è rotto, non andrò a metterlo all'interno del NAS. Ma vediamo anche, prima di andare a inserire l'SSD al suo interno, come si inseriscono i due dischi NVMe per fare la cache di accelerazione in M2. Si va ad aprire qua dietro. E poi molto semplicemente, tirando indietro questa cosa e poi alzandola, possiamo accedere al NAS. In realtà forse questa cosa non è neanche troppo necessaria e si riesce a fare direttamente da qua, però se volete avere un overview del NAS un po' più aperto, eccolo qua. Gli M2 si inseriscono in questi slot con scritto 1 e 2 e in realtà anche qua non serve la vite, perché c'è un sistema che siccome dovrebbe essere implementato su qualunque motherboard per inserire l'M2 senza usare la vite, che è uno sbatte in meno. Adesso lo richiudiamo perché tanto i test con l'M2 li ho già fatti e mentre vado a inserire e a disinserire questo hard disk, vi spiego cosa succede quando andiamo a inserire dei dischi all'interno del NAS. Perché non è un semplice disco su cui noi possiamo caricare dei dati, è qualcosa di molto più interessante. Una volta che avviamo il NAS e dopo vedremo tutta la procedura di setup, i dischi che sono inseriti al suo interno verranno combinati in una cosa che si chiama ride. Ci sono diverse tipologie di ride a seconda delle performance, ma soprattutto del livello di sicurezza che vogliamo avere. Noi con due dischi oggi andremo a vedere il ride 1. Una volta aver combinato i dischi in un ride andremo a creare la cosiddetta storage pool, che in realtà non è dove poi andremo a mettere i file, perché i file verranno messi nel volume all'interno della storage pool. Sembra complesso, ma vi assicuro che in fase di setup è tutto molto più semplice. Se noi andiamo a creare quattro volumi, uno per il lavoro, uno per i video personali, uno per le foto personali e uno per i backup, e abbiamo quattro dischi, non è che ognuno di questi volumi andrà in ogni disco, verranno suddivisi a seconda del ride in un certo modo nei dischi. Questi due li ho lasciati fuori in realtà perché, da quello che ho capito, quando usi gli SSD non vanno inseriti. L'ho capito perché non riesco a inserirli, quindi immagino non vadano inseriti. Magari sto sbagliando. All'interno della scatola del NAS ovviamente vengono forniti anche tutte le cose necessarie per farlo funzionare, quindi corrente e cavo Ethernet. E prima di attaccarlo alla corrente vediamo un po' da cosa è composto esternamente questo NAS a livello hardware. Però partiamo dalla parte frontale. Ovviamente c'è il bottone di accensione e spegnimento. Premendolo una volta si accende, tenendo premuto finché non fa bip, si spegne. E anzi inizierà la fase di spegnimento perché non è uno spegnimento istantaneo. Infatti se gli andate a togliere la corrente, se salta la corrente non è il massimo, soprattutto per i dischi. Poi abbiamo una USB A3.2 se non mi sbaglio, esatto. Ed è comoda per attaccare storage esterni e sfruttare il bottone che c'è sotto, ovvero copia one touch. Chi può fare diverse cose a seconda di come le impostate, vi lascio in descrizione il link per vedere tutti i settaggi a cui potete impostarlo. In descrizione oltre a questo link per il bottone trovate il link a tutto al sistema ride, alla pagina ufficiale di questo NAS. Ha dei video molto più lunghi di questo perché oggi andiamo a toccare relativamente in modo superficiale l'ambito dei NAS. Ma se volete imparare le cose, oltre a saperle fare, perché con questo video vi assicuro che potrete impostare il vostro NAS da zero anche se non sapete niente di computer. Però se volete imparare perché una cosa fa questo eccetera, vi lascio due video qua sotto che sono due ore di video che vi spiegano in modo completo tutto. Sul retro invece troviamo un'altra porta USB 3.2, due porte USB normali, USB A. La porta Ethernet che va fino a 2.5 gigabit, purtroppo i test li ho dovuti effettuare a 1 gigabit perché la mia scheda madre va a 1 gigabit. Però questo NAS non si ferma ai 2.5 gigabit, infatti con questo slot di espansione qua sopra possiamo aggiungere schede di rete fino a 10 gigabit che è tantissimo. Qui sotto ovviamente c'è l'alimentazione, mentre qua c'è una porta HDMI. E voi direte, cosa serve una porta HDMI a degli hard disk praticamente? In realtà no, perché questo è un vero e proprio computer. Serve per fare il media player. Infatti collegandolo a un televisore o a un monitor possiamo riprodurre qualunque tipo di media che è all'interno del NAS, attivare su applicazioni come Plex. E ora possiamo finalmente attaccare l'alimentazione e il cavo Ethernet e iniziare la configurazione del NAS. Quindi uno attaccato, l'altro attaccato e premendo questo pulsante ecco qua che si accende. Non l'ho detto prima, ovviamente qua ci sono tutti i led di stato per sapere se è connesso alla rete, se c'è qualche problema con i dischi, per la funzione di copia e così via. Ecco i beep classici di quando si accende. Ci spostiamo ovviamente sul computer per il setup di questo NAS. Sul computer ci servirà l'applicazione QFinder Pro. Vi lascio il link per installarla qua sotto in descrizione. Voglio sottolineare prima di iniziare il setup che in questo tutorial toccherò i punti principali. Se volete studiarvi bene le cose e sapere perché una cosa funziona in un determinato modo, vi lascio il link sempre qua sotto in descrizione. Ora flashback all'installazione che in realtà è stata qualche giorno fa in meravigliare che l'ho potuto testare. Eccoci al setup, ho già aperto QFinder Pro. Se facciamo doppio clic sul NAS, che in questo caso è il secondo, si aprirà questa schermata dove ci sarà un login da fare. Di base il login è admin e il MAC address senza i puntini o i trattini. Se non funziona, resettate il NAS da dietro. C'è un pulsante apposito che va tenuto premuto per 3 secondi. Andiamo avanti perché adesso dobbiamo fare il vero e proprio setup, quindi accettiamo la privacy. E io già sono nella home page, adesso salto un attimo il tutorial. E mentre si aggiorna vi parlo anche del vero setup perché voi non avrete direttamente questa cosa, soprattutto su dei NAS nuove di zecca. Almeno così dovrebbe essere perché io ovviamente mi sono informato, ho guardato un po' di tutorial su come si impostano i NAS, quali sono le migliori opzioni per impostarli. E non era questo quello che succedeva. Quello che dovete fare è quello che vi sto per dire. Dopo aver fatto doppio clic da QFinder, devi premere su Smart Installation e assicurarti di aggiornare il NAS premendo su Check Updates, ovvero Control Aggiornamenti. Poi dovrai inserire un nome e una password che saranno quelli dell'utente e amministratore. E andando avanti possiamo selezionare le prime cose tra cui l'indirizzo IP, si può scegliere se averlo dinamico o fisso. Per chi non lo sapesse l'indirizzo IP è come se fosse il numero civico di una casa se consideriamo la nostra rete la via ed è identificativo del NAS o di qualunque dispositivo collegato ad una rete. Di base dovrebbe essere impostato su dinamico e questo permette un po' più di flessibilità soprattutto quando andiamo a fare il nostro setup iniziale. Infatti ci permette di sconnetterlo, riconnetterlo, avere un IP variabile che è comunque riconosciuto dalla nostra rete ed è utilizzabile. Se invece hai dei backup ricorrenti o ti colleghi spesso al NAS da remoto consigliabbi avere un IP fisso o anche chiamato statico e sul mio NAS principale ho un IP statico. Quindi quello che ti consiglio di fare durante il setup è utilizzare un IP dinamico per poi quando è finito tutto passare a un IP statico. Finito il setup iniziale premiamo su Go to NAS Management che vuol dire vai alla gestione del NAS per continuare con il secondo step di setup. E mettendo il login dei dati che abbiamo creato prima ci ritroviamo nella home page del NAS. È il momento di fare Storage Pool e Volumi sul NAS. Andiamo nella sezione Storage and Snapshot, saltiamo il tutorial perché in questo momento non ci interessa. Come potete notare abbiamo tre dischi in totale che sono i due SSD da 1TB e l'SSD M2 da mezzo TB. Andiamo nella sezione Storage and Snapshot e in alto resto facciamo New Storage Pool. La prima cosa che ci fa vedere è questa introduzione chiedendoci se vogliamo attivare QTier. E praticamente quello che va a fare è prendere i dati utilizzati più frequentemente e spostarli su dischi più veloci. Quindi in questo caso non lo attiviamo, andiamo avanti. Selezioniamo i due dischi da 1TB che come vedete in realtà non è 1TB ma 894GB. E nel mio caso selezionerò il RAID 1. Ci sono diversi tipi di RAID. Abbiamo per esempio il RAID 0 che necessita almeno di due dischi. La capacità totale è la somma dei due dischi ma allo stesso tempo non abbiamo nessun tipo di sicurezza. Quindi se un disco faila abbiamo perso completamente i dati. Oppure c'è il RAID 1 che è quello che utilizziamo oggi che si può utilizzare con due o più dischi. E ci dà un disco di sicurezza nel caso uno degli altri dischi si rompa. La capacità totale ovviamente sarà dimezzata in questo caso che abbiamo due dischi. Se abbiamo tre dischi sarà meno un disco. Comunque è il totale meno un disco. Ce ne sono altri come RAID 5 per tre dischi o più RAID 6 per più di quattro dischi. Ma non li vediamo oggi. Vi lascio in descrizione un link che vi fa vedere tutte le differenze tra i vari tipi di RAID. Oltre al RAID qua a destra possiamo scegliere un Hot Spare Disc. Ovvero un disco di riserva. In questo caso che abbiamo due dischi è abbastanza inutile a meno che usate un M2 per farlo. Però praticamente quello a cui serve è nel caso magari abbiamo un NAS con sei dischi. Ne possiamo dedicare interamente uno che non verrà mai utilizzato. A meno che ci sia qualche problema in modo tale da limitare il tempo per il quale il NAS non è accessibile. Infatti se c'è un problema è un disco di riserva da quello che ho capito. Non mi sono informato troppo su questa cosa. Quello che viene fatto è sostituire il disco che si è rotto con quello di riserva. In questo caso non ci interessa quindi andiamo avanti. Per quanto riguarda l'over provisoring lo lascio in queste impostazioni qua di base. Quello che va a fare è riservare una parte dell'SSD, in questo caso il 10%, per inserirci i file che vengono frequentemente utilizzati e non scrivere su tutto l'SSD e non rovinare tutto l'SSD. E lasciamo anche lo snapshot attivo magari non al 20% o al 10%. Possiamo andare in Next e qua ci fa vedere quello che succederà. E avremo come spazio definitivo se non mi sbaglio 642 giga. Quindi facciamo Create. E ora con la pool pronta possiamo creare il volume all'interno della pool. Sempre su Create New Volume. Abbiamo tre opzioni differenti. Team Volume, Tick Volume e Static Volume. Con Tick Volume lo spazio che andiamo ad allocare verrà bloccato subito alla creazione del volume. A differenza del Team Volume. Che anche se creiamo un volume da 500 giga non verranno occupati 500 giga. Ma solo quello che andiamo a inserire in questo volume. Quindi se carichiamo un file da 50 giga andrà a occupare 50 giga. Quello che ti consiglio io è il Tick Volume soprattutto se utilizzi solo tool NAS. Per evitare la situazione in cui creando più Team Volume si va ad allocare più spazio di quello disponibile. E poi si creano un po' di casini. Il Team Volume è comodo se devi creare più volumi e non sai esattamente quanto spazio ti servirà in quel singolo volume. Però stai attento a non andare ad allocare più spazio di quello esistente. Selezioniamo Tick Volume la pool che abbiamo appena creato. E ci dice infatti 642 giga disponibili. Andiamo avanti. Inseriamo un nome. Non lo encriptiamo. Se gli mettete una password andrà leggermente a rallentare le performance. Quindi state attenti anche su questa cosa qua. E il volume sarà grande quanto la pool perché non andrò a creare altri volumi. Ora sta inizializzando, sta facendo le cartelle di base. E poi adesso andiamo a vedere anche come caricare dei file sul NAS. Perché è quello il succo importante. E anche il volume creato. Quindi chiudiamo Storage e Snapshot e apriamo File Station. Questo qua è il nostro volume. Con la cartella public creiamo un'altra shared folder. Che è il tipo di cartella che ci servirà per caricare i file. La cartella in questo caso la chiamiamo YouTube. La inseriamo per l'appunto nel volume 1. Percorso automatico. Non gli mettiamo la password. A livello di ruoli lascio quello stock. Quindi admin che può sia scrivere che leggere. Ovviamente il setup che vediamo qua è un setup molto basico. Se lavorate a casa da soli o con due persone. Se dovete creare su un'azienda e mettere 50 utenti diversi. Ecco forse non è il video adatto. Però se vi interessa possiamo anche fare un video molto 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 più approfondito. Però ditemi voi qua sotto nei commenti. Ora che abbiamo questa cartella sicuramente non vorrei andare ogni volta su Google Chrome, su Edge, su browser che usi per caricare dei file. Quindi andiamo a vedere come si vede nell'Esplora Risorse. Torniamo su QFinder, tasto destro sul NAS e facciamo unità di rete. Selezionate questa cosa qui, premete ok. Bisogna metterle a password giustamente. E ora direttamente dall'Esplora Risorse siamo entrati nel nostro NAS. Molto molto figo. Se adesso io in questa cartella YouTube vado a copiare questo file qui in abbastanza poco tempo. Ok, sono abbastanza sconvolto. 97 MB al secondo può sembrar poco. Ma io che arrivo dall'altro NAS che era molto più lento è veramente una bomba. Vogliamo fare diventare la cartella YouTube un vero e proprio disco, chiamiamolo così, accessibile dall'Esplora Risorse? Facciamo tasto destro, map network drive, ovvero map a unità di rete. Lì inserite la lettera che volete, in questo caso gli darò la Q perché QNAP mi piace, a me dargli la Q. Facciamo finish e ora direttamente da questo computer, eccolo qua, network location YouTube Q. 635 GB disponibili e niente, qua dentro possiamo metterci quello che ci pare. Ci sono alcuni programmi di editing ma non i mainstream, Premiere, Final Cut, DaVinci funzionano. Però alcuni non permettono di utilizzare unità di rete come dischi dove salvare cose. Questo potrebbe essere un problema, infatti c'è un protocollo che si chiama ISCSI, che vedete anche qua nella home, che ci permette in primis di avere maggiori performance quando si lavora con file direttamente sul NAS, quindi magari un edit direttamente dal NAS, ma soprattutto permette di bypassare, più o meno, chiamiamolo così, non ho approfondito molto l'argomento, mi sono guardato un paio di tutorial, ma niente di che, il fatto che alcuni programmi vedono il NAS come disco di rete e lo fa vedere come disco normale. Quindi se siete interessati vi lascio qua sotto in descrizione dei link che è il tutorial per questo tipo di protocollo. Come lavoro io? Solitamente tengo il progetto sul computer e poi lo sposto sul NAS. Secondo me con questo NAS potrò lavorare direttamente sopra di esso. Ultima cosa, prima di tornare al futuro barra passato, perché devo ancora testarlo il NAS, quindi la intro e l'outro saranno registrate dopo questa clip, andiamo a vedere come sfruttare l'SSD M2 per creare la cache e avere ancora performance migliori. Sempre da storage and snapshot selezioniamo cache acceleration, facciamo più, selezioniamo il nostro SSD M2 e qua abbiamo tre opzioni, read only, read and write e write only. Tra queste tre opzioni può essere difficile scegliere, infatti con read only siamo sicuri di non aver problemi con i nostri dati, sia nel caso salti la luce, sia nel caso ci sia quel che prendiamo con gli hard disk. Invece utilizzando read and write c'è il rischio di perdita di dati, soprattutto in questi due casi che ti ho appena detto. In questo caso per fare i test andiamo a mettere read and write, però probabilmente lo lascerò in read only. Riinseriamo la password, lasciamo sempre l'over provisioning del 10% e visto che lavoriamo con file di grandi dimensioni, perché siamo video editor o videomaker o tutto il resto, non ci serve la random ma facciamo questa qua che per l'appunto è consigliata per i media. Andiamo to next, ci fa la solita selezione del volume, summary, ci fa vedere cosa stara facendo e facciamo create. Secondo me la cache ha molto senso quando avete solo hard disk nel vostro NAS e volete dargli quel boost in più. Lanciamo a volo un performance test e come notate è nettamente più veloce l'SSD, quasi il doppio, un po' meno del doppio ecco. Anche perché non è un grande SSD quello che gli ho messo dentro, devo essere molto onesto, però va bene così. Ultimissima cosa poi vi giuro, andiamo al feedback. Non capisco perché abbiano messo la generazione 3 degli SSD quando siamo alla 5, alla 6, non mi ricordo. Anche perché è relativamente recente, il 2022 questo NAS. Però dovrebbe avere comunque delle buonissime performance, lo vediamo adesso. E rieccoci dopo circa una settimana di test, in realtà è proprio una settimana di test. L'ho testato sotto un sacco di punti di vista, quindi foto, video, montaggio video direttamente qui, export video, che questa è una cosa che un po' mi fa storcere il naso, AI, non AI, cache, senza cache. Adesso vediamo tutti i risultati. Partiamo dalla velocità, ovviamente questa è la configurazione più veloce che si può avere, con due SSD. Se avessimo optato per inserire due hard disk ovviamente sarebbe stato molto più lento. E forse la cache sarebbe servita di più, perché io ho fatto test sia con la cache sia senza, proprio staccando l'hard disk e tirandolo fuori dal NAS. Io non ho notato tutte queste differenze. Andiamo a vedere un po' di dati pratici. Con l'accelerazione cache per spostare un file dal desktop al NAS di 45,9 giga, ovviamente era una cartella quindi più file, ci ha messo 8 minuti e 12, e in realtà senza l'accelerazione cache ci ha messo esattamente la stessa cifra, 8 minuti e 12 secondi. Quindi direi che o l'ho impostata male io, ma non credo, o non ho ben capito come funziona, probabilmente se continuavo ad utilizzare gli stessi file quella parte lì se l'accelerava. Però sono fortemente convinto che se ci fossero stati gli hard disk avrebbe fatto tanta differenza. C'è anche da considerare però che ho lavorato su una rete da 1 gigabit. Questi test ovviamente sono stati fatti dall'esplorare risorse di Windows al NAS, sicuramente però i dati che trovate sul sito sono un po' più accurati. E parliamo un po' di videomaking perché io l'ho testato per questo, quindi io andavo a editare i video su Premiere direttamente con i file sul NAS, intera cartella sul NAS, anche il file di Premiere. A livello di editing non ho notato nessun problema, anzi quasi più fluido di averlo sul computer. Quindi a livello di editing super approvato, infatti io con quello mio vecchio del 2010 era impossibile editarci sopra proprio perché ha gli hard disk, non ha accelerazione cache, quindi ha una serie di problemi che rallentano troppo l'editing. Invece con questo posso lavorarci tranquillamente. A livello di export non so perché ho notato dei problemi, perché un video esportato direttamente da qui, quindi con tutti i file sul NAS, ed esportato in una cartella del NAS, ci ha messo tipo 25 minuti, un video normalissimo in 1080p. Lo stesso video esportato in 1080p sul PC, con tutti i file sul PC, ci ha messo 3 minuti. Non so cosa sia dovuto a questo problema, non ne ho la minima idea. Però è un problema perché se io magari ho 500 giga di progetto video sul NAS e non ho 500 giga sul PC, ho problemi a esportare quel video, ci metto magari troppo. Ultimissima cosa per avere i file accessibili ovunque siate nel mondo, andiamo in App Center e installate My QNAP Cloud. A questo punto la possiamo aprire, creare il QNAP ID se non l'avete ancora fatto, io farò il login. E dopo aver fatto il login vi darà la possibilità di dare un nome a questo NAS. In questo caso lo chiamiamo Editing. E per l'appunto attiviamo il My QNAP Cloud Link. Il DDNS anche qui lo lasciamo disattivato, questo processo è molto semplice. Facendo applica, in qualche secondo siamo online. E da questo link qui, se io lo copio e andiamo in un'altra finestra, non vado in incognito perché mi fa fare login, ma vado in un'altra finestra. Mi dice che si collegherà al NAS. E adesso con il login che abbiamo creato all'inizio, quindi admin, possiamo accedere al NAS e vedere tutti i file a cui abbiamo l'accesso. Vedete, siamo dentro il NAS, però non siamo in locale, come vedete da qua in alto qua siamo in locale, mentre qua siamo dal web. Seconda cosa interessante che ho testato è l'intelligenza artificiale per il riconoscimento di immagini, di volti, di oggetti, di un sacco di cose. Infatti si possono caricare tutte le immagini, le foto che volete sul NAS anche solo per tenerle lì. E poi dall'applicazione Multimedia Console li possiamo dire, oh guarda che in quella cartella ci sono delle foto che io voglio vedere. E una volta che elabora queste foto, anche senza l'intelligenza artificiale, dall'applicazione QUMegi possiamo visualizzarle. Non solo sul computer ma su qualunque dispositivo, quindi è un po' come un cloud privato. E potrebbe effettivamente andare a sostituire Google Photo e iCloud perché magari sul breve termine ti conviene avere iCloud o Google Photo, ma sicuramente sul lungo termine e sul fattore sicurezza averle in casa e sapere dove sono eccetera fa sempre comodo. Per sfruttare le AI bisogna scaricare QNAP e iCore. Tralascio i passaggi perché sono automatici, nel senso che quando installi l'app si attiva tutto di conseguenza. Però con l'intelligenza artificiale attiva possiamo avere il riconoscimento di immagini, di volti, di oggetti, di luoghi, direttamente da cui ha... Sì, io ho detto Magic prima ma è Magic Eye. Q-U-Magia... Me-Magic. Q-U-Magic. Q-U-Magic. Devo dire che funziona abbastanza bene. Ogni tanto come qualunque riconoscimento di foto sbaglia e ci sono foto che non c'entrano niente. Però non è un grossissimo problema. Parlando di intelligenza artificiale, negli slot M2 si possono inserire delle mini card con un processore TPU che è un acceleratore di intelligenza artificiale per migliorare ancora l'intelligenza artificiale e la potenza di questo NAS. E con questo credo di aver toccato tutti i punti di cui volevo parlare in questo video. Se avete qualsiasi domanda scrivetemela qua sotto nei commenti. E se siete dei videomaker vi consiglio di comprarlo perché è un bel giocattolino e molto comodo. E ringrazio QNAP ancora per avermi dato la possibilità di portarvi questo contenuto, di testare un loro prodotto abbastanza nuovo, nel senso è nuovissimo. 2022, intelligenza artificiale, ha un sacco di feature interessanti. Chissà, magari me lo compro. Sicuramente se lo prendo prenderò quello da 4 slot. Detto questo noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovissimo video.